Il punto di vista, più specificamente, cardiovascolare, quali sono i servizi che il paziente può trovare qui? L'ecografia permette di raccogliere degli indici. Normalmente noi dovremmo fare quattro esami per raccogliere una serie di indici. Lo spazio intima media delle carotidi, andare a vedere un pochino la valutazione della circolazione degli arti inferiori, la ricerca dell'enerismo della orta e, ultima cosa, la valutazione del fegato grasso, della steatosi epatica. La steatosi epatica in realtà si collega bene con questo problema cardiovascolare perché potrebbe essere considerata il primo segno che le difese dell'organismo, cioè il tentativo dell'organismo di superare un certo squilibrio metabolico, sta superando le sue possibilità. Allora abbiamo pensato, piuttosto che fare quattro esami, fare soltanto un esame ecografico che comprende le cose che servono per la valutazione del rischio vascolare. Quindi io in un fegato non andrò a vedere se c'è i calcoli ingolecisti, ma andrò a vedere se c'è una steatosi epatica. Nel vasi del collo non andrò a vedere se c'è una stenosi significativa, ma andrò a vedere se c'è lo spessore degli IMT e così via. Quindi la possibilità di dare un giudizio clinico, di raccogliere elementi con l'ecografia, la possibilità di utilizzare anche il calcium score che si fa con un esame TAC, potrebbero aiutarci a definire meglio il paziente e consigliare i percorsi più utili. Grazie a tutti.